La famiglia reale darà il benvenuto a un nuovo bambino reale entro la fine dell'anno. Dopo l'annuncio della notizia della principessa Eugenia Sallessere incinta del suo secondo figlio, sua madre Sara Ferguson, si è entusiasmata per l'entusiasmante notizia di sua figlia. In un emozionante post su Instagram, Sara ha scritto, condividerai pozzanghere, auge. Una notizia superba, nonnina del paradiso. Punto. Così profondamente grata, la principessa Eugenie e suo marito, Jack Brooksbank, hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, un figlio di nome August, nel febbraio 2021. La coppia, che si è sposata a Windsor nel 2018, ha condiviso la loro felice notizia sulla pagina Instagram di Eugenie, sotto una foto del figlio che bacia il pancione di sua madre Eugenie, in una dichiarazione. Buckingham Palace ha dichiarato. La principessa Eugenie e il signor Jack Brooksbank sono lieti di annunciare che aspettano il loro secondo figlio quest'estate. La famiglia è felicissima e August, non vede l'ora di diventare un fratello maggiore. Il secondo figlio di Eugenie, sarà un terzo nipote per Sara, il principe Andrew. L'ex coppia è anche nonno della loro figlia maggiore, Sienna, la figlia di un anno della principessa Beatrice. Il secondo figlio di Eugenie, sarà un terzo nipote per Sara, la figlia di un anno di di Eugenie. Scacciatore. Credo Shuha. Un altro figli di Eugenie. Siamente presentata es Maria and chiave. La dinamore ha sicalito lavato con il investimento. Grazie.